Mi dica com'è quando è a casa. Quando è a casa? È come un fantasma. Gioca solo con quei videogames. Tutto il giorno, tutta la notte. Videogames? Tutto il giorno. Ma è lei che glielo permette. No. In fondo glieli ha regalati lei quei videogames diseducativi, vero? Certo. Perché dovrei negarli a mio figlio? Come va oggi, Chev? Da favola, signore. Tua madre mi ha detto che ti sei messo un po' nei pasticci, ragazzo. Questo è vero? Sì, signore. Purtroppo questo è vero. Che tipo di pasticci? Risse, parolacce, furti. Che cosa rubi? Televisioni, casse per lo stereo, libri dalla biblioteca. Questo non è tutto. No, signore. Anche l'incasso di un ristorante e una macchina. Forse un modellino. No, signore. Una BMW Z1. No. Calma. Siediti. 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 Calmati, calmati. Va bene. Siediti.